Domani alle 10.30 apre lo sportello anti-racket e anti-usura a Palazzo Massaioli in via Umberto Nobili ad Eboli. Un servizio che è insieme di sostegno economico e psicologico a chi è vittima dell'usura e del racket. Con quest'ultima iniziativa che inauguriamo, commenta il sindaco Massimo Cariello, completiamo il quadro dei servizi che la città finalmente offre alle vittime dell'arroganza, della criminalità, della sopraffazione e della violenza. Uno sportello che si somma al centro antiviolenza, che affianca e sostiene le donne vittime di violenza e che attraverso il centro trovano forza e sostegno per ribellarsi e dire no alla sopraffazione. Il servizio sarà gestito da due associazioni onlus, Emergenza e Illegalità e Porta Aperta.